Noi abbiamo avuto oggi i primi 15-20 minuti un approccio sbagliato alla partita dove errori difensivi hanno portato il San Marco a creare due o tre situazioni importanti che siamo stati fortunati a non capitolare. Detto questo io penso che tante altre occasioni siamo stati capaci di divorarci tante occasioni e portare sempre la gara sui binari della parità. Oggi siamo stati bravi invece a far gol e dopo aver fatto il gol io credo non c'è stata più nessuna difficoltà nel gestirlo perché loro non hanno più creato situazioni importanti. Siamo stati bravi a superare quella fase in cui si poteva ripeto ricapitolare però chi è che non nel calcio anzi io dico la verità vorrei soffrire come ho sofferto oggi e vincere le partite cosa che in altre occasioni non è successa. Abbiamo fatto noi la gara però non siamo riusciti a vincere. Qui si deve decidere siamo per la Vigor oppure siamo solo a criticare a dover vedere che la Vigor la mezza entra in campo e vince 5 a 0. Questo non lo vedrete mai perché è un campionato di promozione difficile, è un campionato di promozione dove tutte le squadre sono attrezzate e dove io ripeto che ho la massima stima e la massima rispetto per gli avversari. La mia squadra sicuramente crescerà, questo lo dico tranquillamente, ma io ripeto bisogna stare vicino alla squadra non solamente andare a vedere il pelo nell'uovo ma avere il modo per poter criticare sistematicamente la situazione del momento, un'occasione sprecata o il resto. Sbagliare un gol fa parte del calcio, non subire gol fa parte del calcio, quindi io mi prendo tra virgolette le situazioni sfavorevoli tipo domenica scorsa, ma mi prendo anche le situazioni favorevoli nei primi 15 minuti dove abbiamo subito la loro pressione, però stiamo stati bravi a portare il risultato nella nostra parte e faccio un applauso ai ragazzi.